Una bella posizione quella che va a dire. Ci sono Baggio e Schimmaci sulla linea di battuta. E' in mezzo a passare a Baggio. Era quello di voi, come c'è a bravissimo Baggio e bravissimo anche questo portiere argentino che finora non è che vabbè si è fatto dalle gran prodezze, ci si mette anche lui. Anzi, la sensazione anche sul primo gol è che fosse una mezza fattura, sembrava sempre scoordinato, questa volta è riuscito a regliare questo tempo. Esce il portiere della parte vuota, De Napoli e poi De Agostini che tenta la battuta. Ecco la punizione, poi c'è a...